Venerdì 30 aprile alle ore 18 in collegamento streaming sulla pagina facebook Bella Vita Contro Guerra l'amministrazione comunale assessorato alle città dell'olio presenta l'iniziativa dal titolo l'olio che verrà. Ospiti della serata saranno gli agronomi Luciano Pollastri e Bernardo Serra che sono esperti di settore e nonché ex funzionari della regione Bruzzo adesso in pensione Gennaro Montecchia produttore nonché frantoiano anche lui molto esperto di settore che ci parleranno appunto della situazione legata alla gestione culturale delle piante di olivo. Faranno anche una sorta di previsione sulla base appunto del periodo che stiamo attraversando quindi primaverile quindi una sorta di previsione di quello che dovrebbe essere e dovrebbero essere gli scenari del settore olivicolo da adesso in avanti fino appunto ad arrivare a produzione. Se ce la faremo proietteremo anche qualche video inerente la potatura della pianta. Quindi ci vediamo venerdì pomeriggio venerdì 30 aprile alle ore 18 in collegamento streaming sulla pagina facebook bella vita contro guerra. Vi aspettiamo